Tutto bene? Avanti. Papà, vieni, vieni avanti, vieni avanti. Ma dico, ma il tempo è un po' incerto, mi sembra, vero? Eh, vai avanti che va bene, dai. Papà, mi senti? Eh? Ma tu sei consapevole di essere un personaggio o no? Eh? Sì o no? Sei consapevole di essere un personaggio o no? Ah, sì. Vai avanti che c'è un posto che forse possiamo sederci. Com'è? Com'è il vino? Com'è? Forza, forza, sai che sei in pole, dai bello, su, avanti. Allora papà, siamo tornati dall'analisa, no? Come ti sembra la situazione? Com'è? Eh? Buona? Sì o no? Com'è? Sì? Basta? Eh, ho detto che sono belli, sono belli, sono belli proprio. La osteria, questa è la tipica osteria, vero papà, la tipica osteria di Verona o no papà? Sì. Grazie. 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 Grazie.